calignaia 12 settembre 2019 un'altra bella giornata di sole e di mare l'acqua era piuttosto fresca quasi ghiaccina il mare era calmo nessuna medusa poche persone sulla spiaggia e al mare per fare il bagno e stare al calduccio e poter rimanere in un periodo più lungo a nuotare facendo le vasche nella baia di calignaia io mi sono messo la mia muta shorty e sono stato veramente al calduccio e comodo un saluto ciao